Prova a non vincere, l'unico modo è non partecipare a questo fantastico contest di gelato. Adesso vi spieghiamo meglio di cosa vi stiamo parlando. Congelati, ma voi lo sapete cos'è la Gold Card Artico? Adesso ve lo spieghiamo. Venite. La gelateria Artico vuole creare nuove grafiche per le sue shopping bag. Il design che meglio rappresenta la gelateria e la zona di Milano dove è situata vincerà una Gold Card Artico che dirà il diritto a un anno di gelato grande. Ci sarà un vincitore per store, ma in occasione della premiazione il 27 maggio tutti i partecipanti saranno invitati in gelateria per un gelato in omaggio. Inviaci la candidatura alla mail che trovi nel copy che sarà giudicata poi da noi e dalla designer Gaia De Angelis. Noi saremo i giudici del contest, quindi inviateci tutti i vostri design e provate a non vincere.